Ora se ne sono andati e finalmente sono solo. Ho tutta la notte davanti e non voglio sciuparne nemmeno un momento. Non la tascorrerò dormendo e nemmeno sognando. Non devo perché un istante sarà fin troppo prezioso. Queste erano le prime righe di un romanzo storico che ci racconta la relazione di due fratelli che dovrà prendere una piega diversa e adattarsi alla situazione inglese di inizio novecento, alle granate e a una donna. Su questa storia abbiamo fatto un apposito podcast che vi straconsiglio di ascoltare sul nostro canale e non dimenticatevi di iscrivervi. Buona lettura!